Buongiorno a tutti bentornati nel mio canale oggi in questo video volevo raccontarvi alcune mie esperienze che sono legate al mondo del lavoro quindi questo sarà un video così di chiacchere in cui vi racconto un pochino quello che mi è successo su internet ovviamente ci sono tantissimi annunci di lavoro e purtroppo alcuni di questi non sono annunci seri nel senso che descrivono un profilo professionale di un certo tipo quindi diciamo che vi fanno credere che quello che ricercano è una determinata figura professionale ma poi invece quando si risponde a questi annunci purtroppo si scopre che dietro c'è tutt'altro e quindi insomma sono degli annunci un po' fuorvianti e sicuramente che si possono classificare come annunci truffa perché sicuramente non è bello comunque illudere le persone che stanno cercando lavoro facendogli credere magari che possono avere l'opportunità di svolgere una determinata mansione quando in realtà poi ne devono svolgere un'altra completamente diversa e spesso magari anche il pagamento è un pochino ambiguo ma adesso andiamo con ordine vi racconto quello che è successo a me prima di tutto vi dico in due parole che io ho iniziato a cercare lavoro da marzo del 2017 perché fino a quel periodo avevo già un lavoro quindi non lo stavo cercando io avevo una mia attività avevo una mia partita iva poi è andato tutto all'aria diciamo così tanto per farla breve e quindi ho chiuso tutto e mi sono ritrovata quindi senza un lavoro quindi ho deciso di cominciare a cercarne uno all'inizio io ero un po' spaesata perché erano tanti anni che non cercavo lavoro e quindi diciamo che mi sono un po' ritrovata in un mare immenso di offerte di siti di annunci e quindi insomma ho dovuto la diciamo che la prima fase è stata un po' di rodaggio dove anch'io cercavo di capire da che parte girarmi solo che nonostante io stessi facendo una certa esperienza in questo campo perché comunque passavo le mie giornate a cercare lavoro leggendo annunce mandando candidature nonostante questo mi sono imbattuta in annunci truffa la prima volta che mi è successo avevo risposto ad un annuncio che chiedeva operatori di call center per assistenza clienti su contratti di telefonia con un pagamento con uno stipendio fisso mensile io ho mandato la mia candidatura sono stata contattata mi hanno detto che avrei dovuto ricevere telefonate di persone interessate ai loro contratti alle loro offerte e c'era un fisso mensile per questo e poi tutte le provvigioni che derivavano dalla chiusura o meno del contratto però io ho chiesto ma sono io che devo telefonare a questi clienti potenzialmente interessati o sono loro che chiamano e loro mi hanno assicurato che erano loro a chiamare allora io ho accettato perché io sinceramente in passato avevo fatto per tanti anni l'operatrice di call center facevo telefonate in uscita quindi contattavo persone proponevo dei servizi e chi fa questo lavoro forse mi può capire ci si sente dire sempre o quasi sempre di no a volte in modo maleducato a volte buttano giù il telefono a volte si ci prendono anche degli insulti quindi insomma non è un lavoro facile un lavoro abbastanza stressante anche perché effettivamente telefonando alle persone proponendo queste cose soprattutto perché ce ne sono tante di queste telefonate la persona si scoccia e quindi insomma la persona che sta al telefono che sta solo lavorando comunque si sente spesso dire di tutto a me succedeva avevo fatto questo lavoro l'ho fatto tanto tempo però adesso sinceramente sarà perché ormai mi avvicino ai 40 anni ma non ne ho più voglia di fare un lavoro del genere perché non ho più voglia di sentire la gente che mi insulta sinceramente e quindi le telefonate in uscita io non le volevo fare quindi ho chiesto e mi hanno giurato che in realtà non erano telefonate in uscita allora ho accettato appunto di fare questo colloquio mi hanno detto poi che avrei dovuto fare anche un corso di formazione di una mezza giornata ho accettato ho fatto questo corso di formazione in cui c'è stato detto che le persone in realtà eravamo noi a contattarle ma contattavamo soltanto chi aveva manifestato interesse verso le loro offerte quindi quello che c'è stato detto è che queste persone telefonavano manifestavano interesse per uno dei loro servizi e poi veniva detto loro che sarebbero stati ricontattati da un'operatrice per appunto ricevere tutte le informazioni quindi io avevo davanti questa lista di nominativi e pensavo che mi fosse stata riportata un'informazione corretta cioè devi contattare queste persone ma sono loro comunque che hanno chiesto di essere ricontattate e allora io insomma ho detto sono in uscita ma comunque sono io contatto persone interessate quindi magari non me lo buttano giù il telefono ecco in questo senso io ho fatto un po questo ragionamento ho contattato queste persone e la prima mi ha detto che non ne sapeva niente di questa cosa che non aveva contattato nessuno che non aveva richiesto nessun tipo di informazione io ci sono rimasta un po male ho chiesto subito alla prima telefonata spiegazioni di questo fatto e mi hanno detto ma no non ti preoccupare a volte succede se magari le persone che rispondono in quel momento sono anziane o se non ne sanno niente loro perché magari è stata la figlia il figlio a chiamare insomma me l'hanno messa un po così ho detto vabbè una volta può succedere due può succedere solo che dopo quasi due ore di lavoro mi stava succedendo con tutti cioè tutti quelli che io stavo contattando mi stavano dicendo che non avevano chiesto nessuna informazione che loro non avevano chiamato nessuno e si arrabbiavano ancora di più di quelli diciamo che vengono contattati così dal nulla perché quando si sentivano dire la sto contattando in merito alla sua richiesta di informazioni si arrabbiavano ancora di più perché mi dicevano che loro non avevano richiesto nulla di non prenderli in giro che stavamo inventando delle cose insomma io sinceramente di essere trattata in questo modo di mettermi in un meccanismo di lavoro di quel tipo non me la sono sentita e mi sono però sentita vittima di una truffa perché comunque se loro mi avessero detto subito la verità quindi anziché farmi credere che io avrei contattato persone interessate mi avessero detto subito che io dovevo contattare persone che non ne sapevano nulla e dovevo proporre loro servizi loro contratti forse è vero che magari non avrei accettato ma qualora avessi accettato mi sarei sicuramente posta in un altro modo quindi per vendere una cosa comunque bisogna porsi in un determinato modo e quindi secondo me è stato un po controproducente per tutti comunque questo annuncio è stato un annuncio truffa perché ha fatto credere delle cose che poi non erano e questa è stata una mia esperienza poi me ne è successa un'altra ho risposto ad un annuncio che chiedeva una persona che fosse in grado di utilizzare bene il computer per gestire degli ordini di magazzino con il computer quindi io mi sarei dovuta occupare di gestione degli ordini di catalogo dei prodotti avrei dovuto inserire sul loro sito internet tutti i prodotti di un determinato negozio occuparmi della fornitura della vendita insomma di tutte queste cose io ho risposto a questo annuncio sono stata contattata e nel momento in cui mi hanno contattato mi hanno detto che sì il lavoro consisteva in questo ma in realtà per poterlo svolgere io avrei dovuto acquistare lo spazio in magazzino quindi avrei dovuto acquistare una licenza un po come comprarsi un negozio e quindi insomma io ho pensato che anche questo era sicuramente un annuncio truffa perché non veniva specificato che si stava ricercando una persona in grado di acquistare la licenza di un negozio ma sembrava semplicemente la ricerca di personale adibito alla gestione del magazzino ma non comunque a poi gestire tutto il negozio anche dal punto di vista proprio fiscale cioè tutte queste cose comunque che poi stanno dietro alla gestione di un negozio e anche questo era un annuncio truffa perché comunque se ne sono guardati bene da dallo specificare bene in che cosa consisteva questa proposta poi l'ultima che mi è successa riguarda un annuncio che chiedeva delle persone in grado di scrivere articoli che poi sarebbero stati pubblicati online quindi si trattava di una redazione di giornale vera e propria che pubblicava online degli articoli e io avrei dovuto scrivere degli articoli inoltre questo annuncio chiedeva di inviare due articoli di prova perché comunque sarebbe stata fatta una selezione perché loro giustamente volevano capire se la persona era in grado comunque di scrivere un articolo siccome io sono sempre stata abbastanza portata per la scrittura mi è sempre piaciuto ho subito risposto ho subito mandato i due articoli sono stata selezionata perché mi hanno detto comunque che i miei articoli erano scritti bene sono piaciuti quindi io ero anche contenta diciamo di questa cosa e mi hanno detto però se vuole lavorare con noi va benissimo però in realtà non c'è retribuzione e ho pensato ma come non c'è retribuzione avete messo un annuncio su un sito che si occupa di ricerche di offerte di lavoro avete detto che cercavate una figura professionale e poi in realtà mi state dicendo che è un lavoro che va svolto gratuitamente e loro mi hanno detto sì va svolto gratuitamente perché comunque noi non le diamo soldi in cambio però le diamo la visibilità e quindi se qualcuno legge il suo articolo poi la può contattare privatamente che ho pensato ma che cavolo di discorso è questo perché comunque io non stavo cercando un hobby stavo cercando un lavoro perché gli hobby io ce li ho già anche il canale youtube è un hobby io faccio video perché mi piace non perché ha un lavoro quindi insomma i miei hobby li ho me li sono scelta io con delle condizioni che vanno bene a me se cerco lavoro cerco un lavoro cioè cerco qualcuno che mi faccia fare una mansione di un certo genere che mi paghi per quella mansione quindi insomma diciamo che è un po' diversa la situazione e anche lì se ne sono guardati bene dallo specificare che non si trattava di un lavoro quindi di un'offerta di lavoro ma di un'altra cosa quindi anche lì insomma è un annuncio quello truffa perché comunque non spiega qual è la mansione reale e quali sono le condizioni reali e queste sono le cose che mi sono successe detto questo volevo consigliarvi un sito che si chiama leggo perché a memoria non me lo ricordo perché è lungo e ve lo scrivo comunque qua sotto www.spammit.blogspot.com ed è un sito che permette di smascherare tutti questi annunci truffa se qualcuno ci è cascato come è successo a me è probabile che abbia inserito su questo sito il tipo di annuncio incriminato diciamo così in modo da aiutare altri utenti a non cadere in questa trappola quindi se vedete degli annunci sospetti magari prima di rispondere andate a dare un'occhiata a questo sito cercate di vedere se magari sono stati inseriti potete anche inserirli voi se volete se malauguratamente vi capitasse una cosa del genere potete andare su questo sito inserire l'annuncio in modo che sia visibile a tutti quelli che stanno cercando lavoro a proposito di questo io nella piccola e breve esperienza che mi sono fatta in questo periodo mi sono resa conto che gli annunci truffa di solito hanno tutti un po le stesse caratteristiche prima di tutto non è indicato il nome dell'azienda molto spesso non è indicato quando è indicato comunque la mansione non viene descritta nel dettaglio è un po vaga diciamo uno risponde all'annuncio e magari non è proprio non ha proprio capito bene al 100% che cosa dovrà andare a fare io questo l'ho capito dopo nel senso che quando ho risposto lì per lì mi sembrava che la mansione fosse stata spiegata bene poi ripensandoci anche andando a rileggere l'annuncio dopo che ho capito che era una truffa mi sono accorta che effettivamente mancavano dei dettagli quindi bisogna il mio consiglio è bisogna sempre stare attenti e leggere l'annuncio più di una volta per capire se effettivamente ci sono degli elementi un po strani un po ambigui io non l'ho fatto sono stata forse troppo superficiale nel rispondere e ahimè ci sono cascata infatti sono qui a raccontarvelo e anche a dirvi insomma state attenti se cercate lavoro perché ci sono anche queste cose a questo proposito io vorrei consigliarvi un canale youtube di una professionista lei è proprio una selezionatrice si occupa di formazione di selezione del personale è proprio il suo lavoro quindi una persona competente capace che sa quello che dice in questo in questo campo e fa dei video che sono molto utili per chi sta cercando lavoro perché intanto da qualche dritta su come si fa un curriculum una lettera di presentazione cosa evitare durante un colloquio insomma tutte queste cose un po più generali e poi risponde anche alle domande degli utenti aiutandoli proprio a fare il curriculum io ho visto alcuni video in cui lei leggeva proprio il curriculum della persona ovviamente senza fare nomi e cognomi però leggeva comunque il curriculum e dava proprio dei consigli pratici quindi secondo me può essere molto utile inoltre questa persona ha una pagina facebook ha un sito insomma oltre al canale anche degli altri strumenti che potete andare a visitare e che potete utilizzare lei si chiama valentina russo io vi lascio comunque il link al suo canale nell'info box così potete andare a vederlo insomma e se dovesse interessarvi appunto l'argomento se magari state cercando un lavoro dare un'occhiata a questo canale può essere sicuramente una cosa utile comunque queste sono le cose che sono successe a me fatemi sapere nei commenti se magari anche a voi è successo qualche volta di vedere un annuncio di lavoro che vi sembrava interessante poi di scoprire che in realtà era tutta una fregatura ditemi che non è successo solo a me vi prego ragazzi ditemi che non sono io la sola ad essere la malcapitata quanto insomma quando si deve cercare lavoro mettete un like al video se vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto io vi mando un bacio enorme vi do appuntamento alla prossima